Ma guarda, il Giro d'Italia la difficoltà sono le salite, noi qua in Italia abbiamo delle salite toste, ripide, molto impegnative ed è quello diciamo il pezzo della difficoltà del Giro d'Italia. Il Tour de France è difficile per la media perché ci sono tantissimi capitani, diciamo che adesso bene o male il Tour lo prendono tutti come fare o lo prendono perché è un evento importante per Assurdo e il terzo evento più importante, più visto diciamo al mondo. Il problema è che ci sono tantissimi capitani che vogliono ben figurare tutto quanto altro, perciò stare sempre davanti 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 si alza sempre la media però per me è la difficoltà in un Tour de France.